Qui c'è Maria, ho fatto questa falsa brava per un nuovo lido d'arte, inspiro da miei due miei due dimentici. Durante il prossimo video vedrai il nuovo make-up. Se ti piace il mio lavoro, per favore supportare il mio canale, abbiatevi e share. Grazie! Prendiamo un rettangolo di carta forno e poggiamola sulle nostre sopracciglia. Con una matita segniamo il contorno in trasparenza, restando fuori di un millimetro. Intagliamo questa forma ottenuta per formare uno stencil, che useremo per creare finte sopracciglia sul misura. Ricalchiamo e ritagliamo il nuovo di nuovo su un foglio di plastica trasparente piuttosto rigido. Grazie! 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 Speaker 2 Con questo secondo stencil riportiamo la forma su un pezzo di stoffa o di carta a seconda di quello che dobbiamo fare. in questo caso il jeans. Segno il contorno sul rovescio della stoffa facendo attenzione alla direzione, poi ritaglio rimanendo fuori dal disegno. Ora siamo pronti a decorare. Ho cercato di riprodurre il disegno del bracciale usando piccolissimi strass e bocchie da nail art. Con lo spirit gum e uno stuzzicadenti disegno il motivo centrale e attacco i piccoli strass uno ad uno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo continuo con le bocchie cercando di creare un'armonia e similitudine con il decoro del bracciale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e dopo questo lavoro di pazienza è pronto. Con lo stesso procedimento possiamo incollare perline e paillettes, possiamo anche cambiare forma alle nostre sopracciglia e creare personaggi nuovi. spero vi sia utile questo tutorial. Ciao alla prossima! Grazie a tutti. Grazie a tutti.